Sciocca alle Olimpiadi. La verità. Dietro l'addio alla box di Angela Carini. Prima di entrare nei dettagli di questo video, ti chiedo di iscriverti al canale e di condividere il video. Grazie mille! Angela Carini, la pugile italiana che ha fatto parlare di sé alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha scioccato tutti con il suo ritiro improvviso dal ring dopo soli 45 secondi di match contro l'algerina Imane Khelif. Ecco la sua storia, raccontata con il cuore in mano. Angela Carini ha detto ciao alla box per un momento di riflessione e solitudine. Era appena scesa da un sogno distrutto, ma ha già lo sguardo rivolto alle prossime competizioni. Ecco le sue parole. Quando sono salita su quel ring, stava iniziando la mia Olimpiade, stava iniziando il mio sogno. Ho ricevuto il primo colpo e mi dava fastidio il caschetto. Sono andata all'angolo e lì ho detto al mio maestro che mi faceva malissimo il naso. Sono rientrata e ho ricevuto il secondo colpo. In quell'istante non ho capito nulla. Ero in un altro mondo. Avevo preso un colpo e ero KO. Sembrava che potessi continuare, ma ero in difficoltà estrema. Sono una pugile esperta. Faccio pugilato da quando avevo 12 anni. Il ring è la mia vita. So cosa significa prendere i colpi. Sono sempre stata una lottatrice, una guerriera. Non ho mai mollato su quel ring. Se l'ho fatto è perché in quell'istante mi sono sentita così persa che ho pensato alla mia famiglia e alla mia salute. Angela Carini non ha voluto arrendersi, ma il dolore e la confusione l'hanno sopraffatta. Ha descritto quel momento come una scelta di coraggio, una decisione di tutelare la propria vita e salute. Le polemiche non sono mancate. Dopo l'incontro, il dibattito politico ha influito sul clima intorno alla pugilessa italiana. Tuttavia, Carini ha dichiarato che quando è salita sul ring non stava pensando a ciò che accadeva intorno a lei. Ero salita sul ring pensando che iniziava la mia Olimpiade e dopo tanti sacrifici e la morte di mio padre ho sognato questo momento con tutta me stessa. Angela ha parlato del supporto ricevuto dal suo maestro e dalla sua famiglia, spiegando come il suo maestro, che la conosce da anni, l'abbia incitata a continuare perché sa che lei non si è mai arresa. Tuttavia, in quel momento specifico, il dolore fisico era insopportabile. Ha raccontato di aver pensato alla sua famiglia e di aver preso la decisione di fermarsi per il bene della sua salute. Nonostante la delusione e il dolore, Angela Carini guarda al futuro con speranza. Ha dichiarato che tornerà sul ring e continuerà a lottare per i suoi sogni. Ha raccontato del sostegno ricevuto dalla premier italiana Giorgia Meloni, che l'ha incoraggiata a non mollare e a credere nei suoi sogni. In una situazione del genere, mio padre mi avrebbe abbracciata e detto Non ti preoccupare, Angelina. Vai avanti. Queste sarebbero state le sue parole. Ne sono certa. Io mi batterò per i miei sogni sempre e sarò sempre la tigre come mi ha chiamata mio padre. Non vedo l'ora di prepararmi per le mie prossime competizioni. Quindi possiamo dire A presto, box. Sì, a presto, box. Non dimenticare di iscriverti al canale e condividere il video. Grazie mille per il supporto.